Dopodiché adesso abbiamo sentito da Londra, arriva la notizia che c'è un'ulteriore mutazione. Di che stiamo parlando? Chiedo anche a lei, mi devo preoccupare Alessio, può stare tranquillo? Ma insomma, io non vedo la preoccupazione, va monitorata dal punto di vista molecolare, ma non c'è da preoccuparsi fino a che non abbiamo dati scientifici certi su quella che è la mutazione e su quello che è il ruolo della mutazione. Teniamo conto che c'è un lavoro molto bello su Nature.com che ha individuato qualcosa come 12.000 mutazioni da gennaio ad oggi. Cioè il virus muta perché come ha detto Fabrizio Fregliasco, eh sì, su Nature.com, andate a vedere un lavoro di una settimana fa, ne hanno trovate 12.000 chiaramente tutte ininfluenti. Ma questo per far vedere che lui comunque le mutazioni le fa perché, a detta anche di questo lavoro, vengono indotte dal nostro sistema immunitario, vengono indotte da pressioni ambientali. Quindi lui muta perché deve scappare dal nostro sistema o fuggire dal nostro sistema immunitario. Ma sono tutte ininfluenti. Lui ne ha fatte per quello che ci riguarda oggi. Cioè lui entra in relazione con noi e siccome il nostro sistema è lì per proteggerci, il nostro sistema immunitario è là per proteggerci, lui arriva e dice io adesso come faccio a, diciamo, contrappormi a questo sistema immunitario che vorrebbe proteggere Orsinger? muto e così divento lo stesso, cioè posso sopravvivere. E' questo il punto? Esattamente. Ma guardate che la parola mutazione, in qualche caso come questo, ma specialmente nei virus, è a nostro favore perché lui facendo mutazioni si adatterà sempre di più a noi. È una questione di tempo, ma si adatterà al nostro sistema immunitario e non ci farà più del male. Questa è la soluzione di un parassita. Vivere in simbiosi con il proprio ospite. E professore, però, diciamo, quando noi leggiamo di mutazioni, non dobbiamo pensare al fatto che ad esempio il virus diventa più contagioso, che produce più patogenicità? Non lo so, mi vengono in mente delle cose. Però adesso lei ci rassicura. Allora, no, 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 ma... Ma no, no, a lei vengono in mente cose giuste, assolutamente. Allora, questo virus ha fatto una mutazione intorno a fine febbraio, che è la famosa mutazione DG614, così denominata. Noi la scoprimo già a febbraio, purtroppo per motivi, tra virgolette, tecnici, l'abbiamo pubblicata a maggio, insieme al gruppo americano della Betty Corbett. Ora, questa mutazione, poi è un lavoro su Nature, ce l'ha confermato un mese fa, più o meno, ha reso il virus estremamente contagioso, con la contagiosità di cui noi sappiamo. Tanto è che se noi togliamo la mascherina ci infettiamo quasi subito. Pensate che tutte le sequenze isolate da pazienti italiani sono più di 700, nel 98% dei casi hanno questa mutazione. Quindi, è una mutazione che lo ha favorito in termini di contagiosità, ma non in termini di patogenicità. Togliendo il tecnicismo, diciamo, lui ci sta facendo del male così come lo faceva all'inizio a gennaio. Sì, sì, chiaro, chiaro. O a novembre dello spillover. Non è cambiato da questo punto di vista. Cioè, la sua forza nel farci del male non è cambiata, ma è cambiata la sua contagiosità, cioè si diffonde molto più velocemente. Ho capito bene? Dopodiché però lei capisce che siccome noi guardiamo la luce in fondo al tunnel, la luce in fondo al tunnel è il vaccino, se io penso che questo simpaticone di virus mi muta, penso pure, ma non sarà che intanto che io arrivo al vaccino, lui è cambiato e il vaccino non funziona più? Allora, in teoria questo può accadere, ma in pratica non accade perché tutte le mutazioni che abbiamo osservato non interessano la proteina spike, che è la proteina su cui si basa il vaccino. Quindi il vaccino avrà la sua efficacia. Su questo io ne sono ad oggi sicuro. Ok, senta, un'ultima cosa le voglio chiedere.